Sicuramente ci aspettavamo una partita non facile, l'abbiamo presa come una fase di rodaggio in vista degli impegni futuri, quali la partita con Bojasco che avremo mercoledì. C'è stato qualcosa di positivo, sicuramente abbiamo tanto da migliorare, adesso però dobbiamo pensare a portare a casa il risultato mercoledì. Ma sicuramente saranno incentrati tutti sulla parte tecnica e tattica perché dobbiamo arrivare lì pronte e concentrate, Bojasco non è una squadra da sottovalutare soprattutto in casa loro, quindi adesso dobbiamo metterci soprattutto testa più che fisico.